10 elementi e 13 o probabilmente 14 che andranno a formare l'organico. Questo è il riferimento attuale nel Pineto per la stagione 2024-25 alla Serie A2 di Pallavolo. La società, salutati l'opposto di Serrino Andrea Sant'Angelo, accasatosi in Superlega a Taranto, nel centrale basso andato a Belluno, al momento nel proprio 6-1 di partenza può contare su Catone come regista, sul finlandese Casasalo come opposto, su Zamagna al centro, sul brasiliano Baesso e sul figlio d'arte Jurisci quali schiacciatori e sul libero Morazzin. Come rincauzzi attualmente figurano l'altro libero Pesare, il fuorimano Bulfon e gli schiacciatori di Silvestri e Favaro. In Serie A3 inoltre, anche l'Ortona sta viaggiando a ritmo spedito, nella composizione del proprio organico. Con il nuovo tecnico, Denora Caporusso, in cabina di regia è arrivato l'ex club Italia Pinelli nella scorsa stagione da Versena 2, opposto l'ex Savigliano Rossato. Al centro invece si disimpegneranno Pasquali da Bari e Giacomini nell'ultimo torneo in Serie B a Civitanova Marche. Completa il reparto dei posti 3 da Motta e Livenza, che ha chiuso i battenti a Rienti. Da segnalare anche una conferma, quella cioè del laterale figlio d'arte Matteo Bertoli.